Dopo che Emanuele Mancuso ha avviato la sua collaborazione con la DDA, un po' di conti in famiglia se li sono fatti, il risultato per alcuni è stato inevitabile. Sparire subito dalla circolazione e far perdere ogni traccia, ed è così che Pantaleone Mancuso, 57 anni, alias l'ingegnere, considerato esponente di punta dell'omonimo casato mafioso di Limbadi, e il figlio Giuseppe Salvatore di 29 anni, detto anche Peppo Zip, risultano irreperibili ormai da diverse settimane. Il primo dall'immediatezza della notizia del pentimento dell'altro figlio, il trentenne Emanuele, il secondo invece, una volta uscito dal carcere e sottoposto ai domiciliari. Sia lui che il padre sono attualmente imputati a Catanzaro anche per il tentato omicidio della zia Romana Mancuso e del figlio Giovanni Rizzo, ma sono stati assolti in appello, in più Giuseppe Mancuso è anche a processo dinnanzi alla Corte d'Appello di Milano. Emanuele Mancuso è invece iniziato a collaborare e a svelare i segreti di casa Mancuso e verosimilmente spinto padre e fratello a sparire dalla circolazione, tanto da non presentarsi in chiesa nemmeno al matrimonio della sorella, celebrato sabato scorso a Nicotera.